Bene ragazzi oggi facciamo provare ai giapponesi un po' di prodotti italiani Iniziamo dalla fiesta La fiesta 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 Devo dire che per tutti i giapponesi è molto difficile Dice di aprire le fiesta Wow Tata tata Mmm Cacchi Mi piace Cacchi 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 C'è un po' di alcol in questa Vediamo se ne piace Ah Oicii Ti piace? No A te non piace? No Ok E' molto amato E' molto dolce In Giappone se fanno una merendina simile sarebbe super dolce Mmm Mmm Ok Buono Ma in Giappone c'è anche questo Non è che non è che questo Il sapore del cervello Proseguiamo con i Kinder Cereali Kinder Cereali La Kinder Cereali C'è ancora un po' di Grazie Cereali 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 Lui Willi Gli piace Questo è in Nippon? Ah, però c'è l'altro Ok Buono? Mugi? Cereali Cereali White chocolate Buono? E adesso il pan di stelle E' venuta l'ora del pan di stelle Kawaii decho? E' molto kawaii Biscuit Pan di stelle Sì Kawaiii Ok Prosseguiamo con il pan di stella Stelle Kawaii decho? Kawaiii 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 Ok Cosa E' un normale biscotto Kawaiii Cosa ti ha detto? Non c'è il bianco Ah ok non c'è il bianco Non c'è il bianco Non c'è il bianco Questo è stelle Non c'è in Giappone Non c'è in Giappone Cocoa Occhio Buono In Italia non c'è il bianco Ah ma non c'è il bianco Non c'è il bianco Ah davvero? Perché? C'è il bianco Ha detto che sa di nocciola In effetti c'è dentro la nocciola nel pan di stelle Non vedo io Ma non c'è Questo me lo avete suggerito un po' tutti Facciamo provare anche i ringo I ringo! È l'ora dei ringo Beh ragazzi questa è la seconda puntata di facciamo provare cose buone ai giapponesi Mi avete tutti chiesto i ringo su instastory Quindi vediamo Ringo 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 Apple Allora se diciamo ringo ai giapponesi tutti pensano alla mela Però non c'è dentro mela Perfetto Mmm 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 Sì Mmm Sì Sì Non c'è simile Guriko Ah un nipponcino ha fatto? Guriko Guriko Oh La vendono solo in Italia questa? Sì ma c'è stato C'è un signore che ho conosciuto il giapponese Che è stato quello che ha introdotto i mikado E ha introdotto europeo Wow Pochi Ecco allora anche la nostra Kumiko ha detto che sembrano i pochi E' proprio la reazione che hanno avuto tutte e tre i giapponesi Questo ho avuto in youtube che ho visto Io ho visto Perfetto Buono Pochi Oh È diverso Sembrano un dolce giapponese che si chiama pochi Però il gusto è più forte Nani che c'è? È diverso dai pochi giapponesi È diverso dai pochi giapponesi È diverso dai pochi giapponesi Ok Sa di cioccoletto straniero Cosa vuole dire? Non lo so Abbiamo anche delle mentine tic tac Al gusto liquirizia Tic tac alla liquirizia La liquirizia piace tantissimo ai giapponesi La liquirizia piace tantissimo ai giapponesi Cosa 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 Al gusto E Non lo so Al gusto E Sì Sali 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 No Sali Sembrano Le medicine per la gola In realtà no la tic tac ha la liquirizia ok buono? buonissimo? commento? mmm cos'è? il retro gusto è un po' strambo cinnamon? no no è liquirizia cinnamon è inoltre? non è inoltre ok ok buono? buono davvero? mi sembra abbastanza di nippon mi piace in nippon? non non sembra menta una menta amara hanno detto che in giappone non c'è questo sapore dice che sembra che sia buono per il fisico ma non so se la liquirizia faccia bene però boh forse si buono questo? 1-10 mi piace? mi piace? mi piace? mi piace? ok mi piace allora 5? questo è anche di questo sapore non è Motta ha detto che sono Motta ma questa è la colpa mia ma no va bene comunque è commento questo mi piace? quindi ok 8 tenni 8 tenni 8 tenni 8 tenni questo è davvero questo è davvero davvero 8 tenni rinco non c'era quindi 4 tenni 4 tenni 4 tenni 4 tenni sono vecchi un po' pesanti questo è nel 5 tenni un 5 tenni questo è 5 tenni 5 tenni 5 tenni è un poche z gee 1 poche da pesanti solo cinque punti per il mikado perché credo che il frovi bio Giappone sono più buoni. Questo è la più buona. Ah! Ah! Questo è... Questo è... Questo è 10. 10! Questo è buono. Questo è mi piace. 9. 10. 10 punti per la festa. Questo è 5. 5? Questo è il problema. Aus fino a 150 punti per la festa. 4 punti per la festa è ATTGAGA, o invece rispondere sui indi? Per esempio... Oggi, sono più ver compare perаютьLine. Bene. negative 4 punti per la festa. E ragazzi se siete a Koenji mi raccomando passate da Koshi a tagliarvi i capelli Andate a seguire un po' tutte le tre gnocche di bambù che erano presenti in questo video Spero che questo video vi abbia divertito Ditemi che cosa ne pensate dei commenti Vi scriverò nel primo commento la mia classifica di questi sei prodotti E ditemi qual è la vostra Un ciaoone Ciao Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Shoebostiano se la finì nei maggiori digital store Grazie a tutti